Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, partiamo con i titoli dei quotidiani in edicola. La Gazzetta dello Sport, Roma Show, Montella verso l'esonero, Corriere Fiorentino a quattro sberle di Natale, La Nazione Viola, Travolti, Montella via, Corriere dello Sport Stadio, Tramontella, La Repubblica Fiorentina, Polveri Bagnate, Tutto Sport, Roma, Che Spettacolo, Montella al Capolinea, Vincenzo Montella torna a vedere barcollare la sua panchina, La Nazione stamane parla dell'inferno in terra manifestatosi ieri sera in campo e dopo. Il bilancio è terribile, due punti in sette partite con una classifica divenuta inquietante. Troppe le giustificazioni del tecnico anche dopo l'ennesima sconfitta netta. Tra i principali sostituti spiccano Prandelli, Iachini e Nicola. Intanto ieri in tribuna ha assistito al match anche Ballardini. Per Fiorentina1.com, Riccardo Barlacchi.